Gigi per noi è un punto di riferimento, è normale che è un campione, ma come lo sono De Rossi, come lo sono Chiellini e gli altri, comunque ci sono giocatori che noi dobbiamo prendere da punto di riferimento perché hanno vinto tanto e ci possono portare sulla strada giusta. È normale che Gigi è il faro, è il nostro capitano e poi è una persona a modo, ci puoi parlare, puoi parlare di tutto, è sempre sorridente, è sempre positivo e mette di buon umore in una competizione così nervosa, tesa e piena di pressioni, è importante avere una persona così.